Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Andiamo già a spostarsi e andare dal side Ok, nice! Teniamo lo scarello, una valanga di colpi extra I miei sono ancora vivi tutti E qui abbiamo la possibilità di fare parecchio male Ah, ma era buono! Scusa, bro! Ti piace succhiarmi il cazzo, figlio di puttana? Quanto ti piace succhiarmi il cazzo proprio così Aaaaaaah! Aaaaaaah! Stronzo! Ma va bene così Ciao Ricky! Io io! Ricky sottolineatura FN 9 mesi 6 è al Vesciu E sono 9 Bella play, bro! Bravissimo, 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 bella play, bella play Bravissimo, 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 tua madre puttana! Andiamo a sbustare, va! Ma facciamo una sbustatina? Aaaaaaah! 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 Cristo Dio della Madonna! Di Cristo Dio! Puttana di quella stronza della loro madre baldracca di Berda! Che cazzo di senso hanno avuto? Per quale fottuto motivo? Cristo Dio! puttana di quella stronza di merda fottuta puttana ma l'avete mai visto il tizio quello ciccionissimo pelato che si beve che si beve minchia la sprite la coca alitria cannone 2,5 gigabit verifica e attiva ok che cazzo abito in burundi come cazzo è possibile dimmi che ho fatto il 50% che andiamo a sparare raga scusate vi ho detto il 50% facciamo il 50% io io questa è la più bella 2 bar pescare un po' di pesci vedere se entro in e anche questa 1990 bellissima raga un euro squamblada no Matteo avevo le mie schede sono tutti i video di una volta si si avevo mica dash più bianco non si può la prendeva mia nonna avevo una collezione di 2-3 mila schede telefoniche qualcuno me le ha rubate e ho anche qualche idea la nave per fare il pirata vediamo qua cosa c'è copertura molto molto interessante anche questo non sappiamo però quando arriveranno ma ci sono anche altre schine che invece verranno introdotte in questi giorni nel negozio questa è la prima orribile orribile per tutti i fanatici e i tifosi del milan potrete avere delle decalcomanie proprio della vostra squadra preferita manchester city non è raggiunto dalla rete banda larga che merda che merda che merda no raga tanto non ci arriva un cazzo raga che merda cambio casa basta cambio casa cambio casa è inutile che continui a rosicare bro non rosicare che probabilmente quando tu andavi andrai a lavorare io sarò già da un'altra parte smetti di rosicare viviti la vita perché tanto fallito sei e fallito rimarrai per sempre è bello continua continua pure a pensare che la bravura su fortnite sia il motivo principale per cui uno debba streamare solitario nella notte va se lui gioca gli altri san quittar chi nasconde quella maschera chiude vedete è rispuntata ha distrutto tutte le condutture si è proprio una porcata ragazzi non hanno più fondi era veramente un mini mini evento e insomma le condutture sono rotte andiamo a vedere se hai cambiato qualcosa ma penso che abbiamo finito bravo il vaso di pandora grazie pirata il vaso di pandora pirata c'ho sei birre in corpo l'arca dell'alleanza va benissimo come si dice la prima playstation grigia normale originale di donkey kong pulita sono tutte lavate queste ve l'avevo promesso che avrei fatto il 50 ve l'avevo promesso spariamoci un paio di partite in squad si l'han fatta proprio bene l'han fatta col gelato tutto sbregato lei è proprio bella e poi ultime spillette aspetta amore dammi un bacio si dai dopo fai a vedere le spillette con la maglietta blu